Ma lo stretching e il lavoro di mobilità servono? Ho veramente bisogno di fare un lavoro per la mobilità? Quanto stretching devo fare? O quando devo invece lavorare magari sul gesto tecnico e la forza? Ciao sono Marco Seggina e oggi cercherò di rispondere a queste domande. Mobilità, 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 stretching, stretching, stretching. Ma ho bisogno di fare esercizi di mobilità e stretching o no? Sicuramente mobilità è una caratteristica fondamentale del movimento, è molto inflazionato ultimamente nel settore del fitness. Pare che oggi come oggi allenarsi significhi mobilizzarsi. Si parla tanto di mobilità, vedo tanti corsi di stretching, tutte cose molto divertenti ma sono davvero così utili? Beh se riesci a fare un determinato movimento, riesci a stare in una determinata posizione, quindi parlo di una posizione necessaria per fare quel esercizio o quel compito o gesto specifico, allora probabilmente non hai bisogno di fare ulteriore mobilità o stretching a quel distretto. A volte per migliorare ignoriamo piuttosto altri elementi come appunto la forza, la tecnica, la resistenza o il controllo motorio che sono necessari a svolgere quell'esercizio in modo corretto quanto il prerequisito di mobilità. Beh riesci a fare il movimento corretto senza carichi? Sì? Bene non hai bisogno di fare mobilità. Non ci riesci? Bene probabilmente allora sì hai bisogno di lavorare sulla mobilità ma fallo solo sui distretti che ti impediscono di svolgere il movimento o quel gesto specifico correttamente. Ok in pratica proviamo a fare degli esempi. Riesco a fare il movimento corretto della giusta ampiezza senza carico ma quando lo faccio aggiungendo un carico o un sovraccarico non riesco più a raggiungere la stessa posizione corretta. In questo caso dovrò fare mobilità? Ma se quello che dite è vero probabilmente più che lavorare sulla mobilità avrete bisogno di lavorare sulla forza sulla resistenza e il controllo motorio. Tutti elementi che possono rendere un gesto imperfetto anche se magari presi singolarmente sembrano buoni. Proviamo a fare un altro esempio. Avete presente il test di SFMA di Half Kneeling? Praticamente un test in grado di misurare il grado di dorsiflessione della vostra tibiotarsica di Cessica Viglia. In pratica consiste nel partire in una posizione in ginocchio tipo in arrivo dell'affondo con un piede avanti e a questo punto con un bastone verticale o un muro come riferimento dovrete provare ad avanzare con il ginocchio il più possibile senza mai sollevare però il tallone dal pavimento. Ecco questo test viene reputato normale in SFMA quando siamo in grado di raggiungere questa distanza, una distanza tra vertice e il punto più anteriore del ginocchio e la punta del nostro piede di almeno 4-5 pollici che sarebbero 10-13 centimetri circa. Questo esercizio può essere usato anche per lavorare appunto sulla mobilità usando anche dei sovraccarichi da applicare sul ginocchio o al tronco o degli elastici che ci aiutano a forzare un pochino il movimento in flessione. Questi alcuni li abbiamo già visti in altri video. Ma per fare lo squat correttamente ho davvero bisogno di avere questo prerequisito? Boh la risposta è no. Se sei in grado di fare lo squat correttamente anche se hai un punteggio scarso in questo test specifico, se tutte le tue articolazioni sono posizionate correttamente e fisiologicamente nel farlo allora non hai bisogno di migliorare la mobilità della caviglia. Parentesi la capacità di fare correttamente lo squat infatti dipende da molti fattori tra cui la conformazione dell'anca, del femore, del ginocchio, del bacino, del rapporto di lunghezza tra tibia e femore eccetera eccetera eccetera. Quindi se nonostante il punteggio non eccellente in sfma in questo half kneeling riesco a fare movimento di squat correttamente senza carico beh ecco allora la mia mobilità di tibiotarsi cae ok. Beh poi qualcuno potrà dire e beh ma lavorare sulla mobilità non è mica sbagliato un po' di mobilità in più fa sempre bene. Ecco permettetemi di dirvi che questo è falso. Persone dotate naturalmente di grande mobilità se non dotate di adeguato controllo motorio rischiano di infortunarsi e o farsi male esattamente come le persone più rigide che magari cercano di fare gesti che non sono in grado di fare correttamente. E attenzione che il controllo motorio di quei nuovi gradi di mobilità acquisiti non si conquista automaticamente con il miglioramento della mobilità stessa ma con esercizi specifici. Seguite dunque il ragionamento non devo mettermi a fare mobilità a caso un po' a tutto il corpo per qualunque esercizio. Ha senso lavorare sulla mobilità solamente dove è realmente necessario farlo ed è altrettanto necessario e importante lavorare sulle altre capacità condizionali come appunto la forza di controllo motorio in quei gesti dotati di grande libertà di movimento e dunque in grandi possibilità di errore. Anche con questo video spero di avervi incuriosito, di aver risposto ad alcune vostre domande. Se ne avete altre fatemele nei commenti in modo che possa trarne spunto per i prossimi video. Ovviamente se il video vi è piaciuto vi chiedo un like e di condividerlo. Ciao alla prossima! Grazie a tutti!